Adesso passiamo anche ad ascoltare alcune testimonianze di chi convive con la fibromialgia. Qui accanto a me c'è Nina Gallitto, che è la referente della CFU per la Sardegna. Innanzitutto benvenuta. Grazie mille, grazie a voi. Vogliamo spiegare a chi poi ci sta guardando, a chi ci ascolta, che cosa significa poi nel quotidiano convivere con la fibromialgia, quanto è da una parte ad oggi frustrante il fatto che non venga ancora riconosciuta per quello che è e dall'altra parte quanta speranza c'è però che si arrivi finalmente al riconoscimento. Allora, convivere con la fibromialgia è sicuramente molto molto difficile perché ci si ritrova a vivere una vita non propria, non ci si riconosce più in ciò che si era, per come si è nati e per come si è vissuti fino ad un certo punto della vita. Io personalmente ho impiegato quasi 13 anni ad avere una diagnosi perché ogni volta che andavo nello specialista la diagnosi era sempre ansia. L'ansia purtroppo non è una causa della fibromialgia ma è un sintomo e non nego che qualche periodo di ansia lo trascorra anch'io come tutti noi fibromialgici ma ci tengo a ribadire che è un sintomo perché prima c'era un pensiero che fosse la causa, invece non è così. La vita di un fibromialgico è molto difficile perché si fa fatica perché con la fibromialgia si instaura la sindrome da stanchezza cronica per cui tutto ciò che è il quotidiano, l'andare a lavoro, la vita domestica, la vita quotidiana diventa tutto molto in salita. Per cui anche andare a mangiare una pizza con un amico diventa problematico perché al momento in cui si decide di uscire, ci si prepara, tutto a un tratto arriva un attacco di dolore acuto, col quale io convivo molto bene nel senso che ho imparato a conviverci, non che a me non faccia male il corpo perché i dolori si moltiplicano, si amplificano da un momento all'altro, si spostano bisogna trovare una formula con la quale conviverci. Ciò che mi limita realmente a me è la stanchezza cronica per cui l'annebbiamento mentale, il corpo che non risponde agli stimoli per cui è come se si avesse la, mi piace sempre dire, la febbre a 40 proprio per rendere pratico l'esempio per chi non conosce realmente la fibromialgia è come se si avesse la febbre a 40 tutti i giorni, tutto il giorno per cui è come se si facesse un'arrampicata nel vivere, per rivivere questo è sintetizzato in breve la vita al fibromialgico io mi sono un po' persa, nel senso che non mi sono più riconosciuta essendo una persona dinamica, attiva, mi sono ritrovata a vivere una vita non mia in un corpo non mio, quindi si fa un grosso lavoro di accettazione quando si ottiene l'accettazione bisogna capire come conviverci come mostrarsi agli altri, perché gli altri non ti riconoscono e quindi da te si aspettano cose che tu non riesci più a fare e che io personalmente mi sforzo di fare, di condurre una vita normale questo però implica poi una fatica enorme e per cui anche un amplificarsi dei sintomi io ho trovato in me, ho trovato me stessa nuovamente quando ho conosciuto il CFU quando sono entrata a farne parte prima come paziente poi come referente per Sassari e da poco tempo anche referente Sardegna perché mi ha ridato la voglia di combattere per un obiettivo quindi ha tolto da me quella capabilità quella forza, quella combattività che mi caratterizzava che io avevo perso perché io sto lottando per un ideale per un diritto, per una dignità che non ci viene riconosciuta entrare a far parte del CFU mi ha ridato motivazione e siccome la fibromialgia ti leva tanto, ti leva tutto ti leva proprio la dignità io spero e combatterò con Barbara, Katia e Sabrina affinché questo ci venga riconosciuto perché quando questa malattia verrà riconosciuta si darà un senso alla parola si darà un senso al malatto perché quel malatto non sarà più un malatto di serie B e guardato anche con occhi strani perché noi percepiamo lo sguardo di chi non ti crede abbastanza perché anche poco fa faccio un esempio proprio che è successo poco fa una signora mi ha chiesto ma lei è una dottoressa perché ho fatto un intervento gli ho detto no io sono una paziente ma non si direbbe lei magari ha una fibromialgia molto lieve no io esco da 20 giorni di stanchezza cronica dove veramente ho fatto fatica a pensare cioè la mia mente era completamente offuscata il mio corpo non rispondeva quindi non voglio dilungarmi ovviamente questo è per far capire quanto un fibromialgico molte volte non venga visto come malato perché noi ci cerchiamo di camuffare tutti i segni e ne abbiamo tanti fisici a volte anche psicologici perché ti leva tanto quindi io vi ringrazio di questa opportunità perché spero che serva a sensibilizzare medici, istituzioni e anche le amicizie e anche le famiglie perché a volte non io fortunatamente non ho questo problema ma molti fibromialgici non sono creduti in casa dal marito, dal padre, dalla madre quindi si scatenano dei meccanismi deleteri per la vita quindi vi ringrazio tanto buona serata siamo noi che ringraziamo la signora Nina per aver condiviso questa testimonianza e per aver anche però trasmesso il fatto di voler combattere il ruolo importante del CFU in questa battaglia grazie 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 grazie